allora non pensavo che dà una situazione enorme e secondo me è impossibile stargli avanti con una macchina normale completamente impossibile ora dai su un misto stretto cioè un misto stretto è piantata per terra fai così con l'acceleratore questa parte non c'è una macchina che ha quel tipo di il problema non fa nessun rumore il problema è che non fa nessun rumore fa un po' un rumore da da Blade Runner mi sembra di essere su Blade Runner o no? confermo